Allora, cominciamo ad affrontare quello che è l'ABC, questo del paganesimo politeista e in pratica anche della stragoneria. Quello che vi sto leggendo, che vi vado a leggere adesso, vado a illustrare, è un pezzo che ho messo in internet e che fu una risposta ad una email che mi chiedeva appunto di queste condizioni. Sì, ne ho fatto una pagina, credo di averla anche già fatta in radio, ma serve per darci un'idea di che cos'è il paganesimo. Mi sembra evidente, forse solo a me, che per rispondere ad una domanda che ha la sua origine nel monoteismo, da dove viene il mondo e dove è la vita? Cioè in pratica la domanda era, ma il mondo da dove viene la vita? E dare una risposta coerente dal punto di vista del paganesimo politeista è necessario cambiare i fondamenti della filosofia. Proviamo a vedere come si origina la domanda che fai. Tu dici, non hai risposto in ordine alla questione dell'origine o meno dell'esistente nel paganesimo. Da dove nasce questa esigenza? Perché mi fai questa domanda? Nasce dalla tua soggettività. Nasce dalla soggettività di chi esprime la domanda. Chi esprime questa domanda afferma, io che manifesto tutta questa intelligenza, tutta questa ragione, sono importante. Cosa ha manifestato questa mia capacità? Questa mia importanza? Qual è la sua origine? E qui esistono i vari giochi dell'auto-identificazione soggettiva. Eliminiamo questo soggetto che afferma di essere intelligente, razionale e pensante. Annulliamo nella ragione che si è imposta su di lui negli ultimi 25-40 mila anni. Ed abbiamo un qualunque animale della natura. A mio avviso è necessario partire da questo presupposto per comprendere l'universo e il suo continuo divenire e trasformazione. Noi, esseri umani, siamo educati, anche quando non appare l'influenza monoteista, ad esaltare noi stessi mettendoci al di sopra delle altre specie della natura. E nel farlo non ci riferiamo mai alla vita nel suo sviluppo, ma ci riferiamo alla nostra ragione. Non cerchiamo le ragioni dell'esistenza della vita, ma le ragioni della supremazia della nostra ragione su tutte le altre forme di espressione degli esseri della natura e di noi stessi. Ci troviamo a vivere la contraddizione per cui usiamo termini che si riferiscono alla vita, ma cerchiamo le ragioni di supremazia della nostra ragione. La forma, i numeri, la quantità, è tutto convenzionale. Non esiste, non è oggetto in sé. O meglio, esiste come metodo di ricezione e trasmissione all'interno della specie, ma come oggetto in sé non esiste. Ti faccio un esempio. Se tu dici, questa sedia costa 100 euro, quello che tu dici ha un senso per chi sa che cos'è una sedia, per chi sa che farsene della sedia, per chi vive in una società retta dalle leggi che regolano la circolazione della moneta, eccetera, eccetera. Se tu vai in una società che non conosce l'uso della moneta, non sanno che cosa stai dicendo. Peggio ancora, se parli con un essere lombrico del valore e dell'utilità della sedia, eppure devi convenire che sia in te, che nell'ambiente, che nell'abitante di una società che non conosce l'uso della moneta, che nell'ombrico, c'è un elemento comune, ed è la vita. C'è la capacità soggettiva di adattare se stessi al meglio, all'interno delle condizioni incontrate nell'oggettività. Soltanto se condividiamo questo, possiamo parlare dell'origine della vita dal punto di vista del paganesimo politeista. La vita non ha la ragione degli esseri umani, né la proboscita dell'elefante, né le zanne del leone. Perché dico questo? Perché c'è la percezione dell'inizio dell'universo da parte della nostra struttura psicoemozionale. La ragione proietta se stessa su quanto percepito e ci mette il suo zampino. Causa incausata, motore primo, essere assolutamente necessario, l'uno. L'unica realtà della quale noi siamo consapevoli è che la caratteristica dell'acqua è quella di bagnare. Perché l'acqua bagna? L'analisi scientifica ci dice che le sue particelle sono composte in un certo modo, per cui hanno un carattere particolare di adesione per le caratteristiche intrinseche, eccetera, eccetera. Sta di fatto che anche prima che la scienza cercasse le spiegazioni, comunque l'effetto dell'acqua era quello di bagnare. Così la caratteristica della particella più piccola della materia, che noi chiamiamo energia vitale, e che compone il mattone primo di tutto ciò che esiste, ha la caratteristica di passare dallo stato di inconsapevolezza a quello di consapevolezza di sé, qualora incontra le condizioni favorevoli. Come l'acqua ha la caratteristica di bagnare, così la materia o l'energia, se vuoi che tanto sono la stessa cosa, hanno la caratteristica di diventare consapevole di sé. Pertanto, anche la vita si sviluppa prima che la teologia monoteista indicasse delle ragioni per le quali la vita si è sviluppata. E, tutto sommato, alle religioni pre-monoteiste non è mai importato nulla delle spiegazioni per le quali la vita si è sviluppata. Non troverete nessun padrone della vita, nessun Dio, prima del settecento avanti Cristo. Ladone, il signore dei Cananei, aveva un altro significato, anche se può essere stato mutuato dagli ebrei. Quando dici, sto sempre rispondendo a un'email, perché se si giunge a dire che a un certo punto tutto si è generato, perché un qualcosa di primo ha raggiunto la consapevolezza di sé, si ritorna al punto di partenza? C'è un primo che raggiunge la coscienza di sé. Nella mia visione erano alcune galassie, alcuni ammassi stellari, altri li seguirono a ruota dopo il Big Bang. Però loro non dettero il via alla vita, loro erano la prima manifestazione della vita. Non hanno creato la vita, erano la vita stessa. La vita che iniziava il suo processo di divenire, perché la vita è manifestata dalla coscienza di chi riconosce se stesso diverso dal circostante e mette in atto azioni attraverso le quali sviluppare se stesso. Non stiamo parlando della stessa cosa dei monoteisti. Fu uno dei motivi per cui mi fu facile passare dalla visione cosmologica del libro dell'Anticristo alla teogonia di Esiodo, anche se quando scrissi il libro dell'Anticristo avevo un certo disprezzo per la religione greca, per come me l'avevano raccontata. Tu dici, inoltre andando indietro si rischia di arrivare al punto di dire che esiste un'entità da cui tutto origina. Può essere esso il Big Bang, il macellaio Sodome Gomorra, Allah, perfino il nulla può diventare l'ente originario. E questo è un problema, rispondo. Innanzitutto diciamo che prima del Big Bang c'era una coscienza universo. La coscienza universo muore, l'energia vitale che la compone si disorganizza manifestando quella che i greci chiamano caos primigenio. Ciò che a noi interessa sapere è che prima c'era il rumore della vita, ora nel caos primigenio non c'è più il rumore della vita. Non c'è più fino a quando le prime galassie non riconoscono se stesse diverse dal circostante e iniziano ad sommare la loro volontà alle loro trasformazioni per dilatarsi. Il Big Bang è il passaggio da uno stato di consapevolezza dell'universo a uno stadio di non consapevolezza dell'universo, uno stadio di disorganizzazione della struttura dell'energia vitale che la mitologia greca definisce come caos. Dal caos emerge la vita per trasformazione e in continuo divenire. A me ciò che non si esprime non interessa. A me interessa ciò che si esprime, la vita di cui siamo parte. Ed è nella vita che costruisco le strategie di esistenza in base alle mie possibilità. Ogni essere, in base alle proprie possibilità, percorre il proprio sentiero nell'infinito dei mutamenti. Un'altra cosa da precisare. Nel vuoto siderale c'è solo l'oggetto che manifesta il Big Bang. Non c'è una volontà al di fuori dell'oggetto stesso. Non c'è un Dio creatore, un motore primo, una causa prima. Se ci fosse una volontà al di fuori dell'oggetto, le azioni fatte da questa volontà diventerebbero oggetto manifesto per il veggente che pratica la stragonaria. E su questo non c'è mediazione. Chi afferma il contrario, afferma di creare il motore primo dell'universo, il Dio creatore, l'uno, eccetera, lo dimostri. Affermare il contrario non è un'altra ipotesi, è una truffa. Cioè dire che c'è un Dio che ha creato significa truffare le persone. Il truffatore afferma qualche cosa di contrario e chiede di metterlo sullo stesso piano. Io non dimostro l'esistenza dell'oggetto, dice il truffatore, e tu non dimostri la non esistenza dell'oggetto che io affermo. Ma ciò fa parte dell'insieme dei discorsi ingannevoli. Infatti se io ti dico che ciò che non sta sotto i miei occhi non esiste perché io non lo vedo, se esiste e tu lo vedi me lo devi dimostrare. Faccio un esempio. Quando il signor Einstein inventò la teoria della relatività, la teoria della relatività non è come la teoria, la fisica newtoniana, che ricade immediatamente sotto gli oggetti e i suoi esperimenti sono abbastanza dimostrabili anche in laboratorio. La teoria della relatività doveva essere dimostrata matematicamente, cioè doveva essere dimostrata praticamente a livello di equazioni matematiche. Dopodiché, via via che gli strumenti si sono perfezionati, si è visto che la teoria della relatività era un dato reale, cioè era reale, ma dopo che gli strumenti sono stati perfezionati si è potuto verificare un certo dato di realtà. Ma prima che gli strumenti fossero funzionali, la teoria della relatività doveva essere dimostrata mediante tutta una serie di equazioni matematiche. Pertanto, Einstein, che affermava qualcosa, che non ricadeva immediatamente sotto gli occhi, cioè sotto i sensi, non stiamo dimostrando tipo la gravità dove facciamo cadere un peso, calcoliamo la velocità, si calcola l'attrito, si può vedere, cioè il peso lo si vede con i nostri occhi, con i nostri sensi, lo si vede cadere, si vede che c'è una forza che attira verso la terra gli oggetti, mentre invece la teoria della relatività non ricade sotto gli occhi, per cui andava dimostrata, cioè era compito di Einstein dimostrarla, e se Einstein è considerato oggi un grande, è perché la teoria della relatività l'ha dimostrata, e la sua dimostrazione ha retto il tempo, cioè ha retto le verifiche della scienza, per cui era compito di Einstein dimostrare la teoria della relatività, visto che l'ha enunciata, e Einstein l'ha fatto. Allora, se i cristiani enunciano l'esistenza del loro Dio, di un Dio creatore, di una coscienza creatrice all'inizio dell'universo, lo dimostrano, il fatto stesso che non lo dimostrano, significa che è una truffa, è una truffa che non va verificata la truffa nell'enunciato in sé, cioè l'esistenza del Dio creatore, ma la truffa va individuata negli effetti che sugli uomini e sulla società ha questo enunciato. Sì, dopo entra in gioco quelle che sono le specificità della dimostrazione in filosofia e le specificità della dimostrazione in campo scientifico, sono due cose diverse, però sta di fatto che la dimostrazione è comunque necessaria. Se non c'è dimostrazione, significa che c'è truffa. Infine, un discorso sugli Dei. Tutto quanto esiste è un crogiolo di Dei. Non esiste nulla che non sia un sistema di relazione fra Dei. Possiamo dire che tutto ciò che esiste è materia, lo possiamo affermare. Possiamo dire che tutto ciò che esiste è energia, lo possiamo affermare. Ogni affermazione è corretta. La differenza sta nel come noi puntiamo la nostra attenzione e le nostre strategie di vita che mettiamo in atto considerando l'oggetto in un modo o nell'altro. In pratica, se io dico che questo oggetto è fatto di materia, cioè questo libro è fatto di materia, ho una visione del libro, ho una visione sostanziale di forma del libro, se dico che questo libro è fatto di energia, già nella mia mente e nelle mie immagini tende a scomparire la forma per tentare di afferrare un altro modo di essere del libro. Però ho sempre il libro in mano, cioè non è che mi cambia l'oggetto in se stesso. La differenza sta come noi puntiamo la nostra attenzione e le strategie di vita che mettiamo in atto considerando l'oggetto in un modo o nell'altro. Ma passiamo dal libro a un altro tipo di oggetto. Un bosco è fatto da un insieme di vegetali e animali. Mi sembra un'affermazione corretta. Un bosco è un insieme di forme. Mi sembra un'affermazione corretta. Lo usano i pittori, per esempio. Un bosco è un insieme di dei. E qui vi sfido a mettere in discussione quanto io dico. Vorreste forse affermare che tutto ciò che esiste in quel bosco non è divenuto attraverso milioni e milioni di anni? Volete affermare che quegli esseri del bosco, sia animali che vegetali, non conducono lotte titaniche per la supremazia, sia sotto la terra fra le radici, sia sopra la terra per contendersi i raggi di sole? Volete dire che le specie non si adattano al loro ambiente, il vischio, il muschio, i funghi? Volete dire che non c'è una lotta titanica gigantesca che avviene dentro quel bosco? C'è, la scienza ce l'ha dimostrato. Le visioni dell'astrogeneria lo avevano visto. Il bosco è un ente vitale, è un insieme che tende verso l'infinito. E per farlo, ogni soggetto del bosco manifesta le proprie strategie di esistenza. A dei livelli che poi la scienza sta scoprendo e sono anche stupefacenti. Ricordo un esempio degli eucalipti del Sudafrica. C'era un... Adesso vado un po' a memoria perché l'esempio non le ho. C'erano delle antilopi che si nutrivano di eucalipti. E le antilopi erano aggredite dai predatori e alcuni coltivatori, alcuni ambientalisti decisero di salvare questa specie di antilope. E cosa fecero? Cintarono con un'alta rete tutta una zona di boschiva dove c'erano molti eucalipti che erano il cibo di queste antilopi e lasciarono libero queste antilopi in questa zona, che è abbastanza grande, visto che c'erano gli eucalipti da cui si cibavano le antilopi e le avrebbero salvaguardate dai predatori. Successe che dopo un po' di tempo queste antilopi morirono tutte di fame. E allora c'è stata una ricerca sul motivo per cui queste antilopi sono morte di fame. È vero che le antilopi si cibano di eucalipti, ma non è che l'eucalipto si lascia mangiare passivamente dalle antilopi. Cosa succede? Succede che gli eucalipti comunicano, parlano, si mandano messaggi e quando le antilopi cominciano ad aggredire il primo eucalipto per mangiarlo, questo comincia a mandare tutta una serie di messaggi chimici al mondo che gli sta attorno, a tutti gli altri eucalipti, avvertendoli che stanno arrivando le antilopi a mangiare che le antilopi sono nei dintorni. Cosa fanno gli eucalipti? Non fanno altro che aumentare in maniera esponenziale la quantità di tannino che hanno nella corteccia, che hanno nelle foglie. Succede che le antilopi mangiano le foglie degli eucalipti, però la quantità di tannino che esiste nelle foglie in quel caso non gli fa digerire le foglie. pertanto non digerendo i vegetali che hanno mangiato quelli antilopi muoiono di fame. Cosa succede? Che se non ci fosse stato il recinto le antilopi si sarebbero spostate in altre zone e avrebbero trovato dei eucalipti all'improvviso, cioè prima di essere avvertiti dagli altri eucalipti che si stavano mangiando. Invece essendo chiusa all'interno di un circuito di un perimetro delimitato una volta che il messaggio è passato dal primo eucalipto a tutti gli altri eucalipti le antilopi non avevano più niente da mangiare. pertanto ciò che avviene fra animali e vegetali è in realtà non solo una competizione come dice la scienza ma è un'interazione armonica della struttura emotiva di tutti i soggetti che concorrono e tutti questi sono degli dei cioè sono dei soggetti che tendono all'infinito ed è esattamente come per gli esseri umani come per le piante come per le galassie cioè ogni soggetto che riconosce se stesso diverso dal mondo cioè il mondo che lo circonda e dice io sono in quel momento mette in campo la propria volontà e cerca i migliori adattamenti per stare meglio quel stare meglio è una risposta alle proprie tensioni interne ma è anche una manifestazione della propria volontà una manifestazione della propria volontà che non può prescindere dalla struttura fisico-energetica del soggetto cioè non è che una galassia può dire beh adesso sono in questa porzione dello spazio domani vado in un'altra porzione dello spazio no i suoi adattamenti i suoi mutamenti sono sempre legati alla propria fisicità e alla propria qualità di trasformazioni chiaramente le trasformazioni poi sono diverse da soggetto a soggetto e da specie a specie per esempio se noi una galassia la vediamo statica perché per centinaia di milioni di anni per miliardi di anni è ferma noi per esempio siamo dei soggetti estremamente dinamici come esseri umani rispetto al pianeta Terra cioè il pianeta Terra ci vede a noi muoversi in maniera molto veloce per contro noi vediamo i virus muoversi in maniera estremamente veloce mutare anche struttura genetica in maniera estremamente rapida si calcola che fra un 50-60 anni non ci saranno più antibiotici sufficienti per far fronte ai nuovi virus che arriveranno ma tanto per riuscire a capire la velocità di trasformazione pertanto tutto ciò che esiste cioè l'intera vita e l'intero esistente è un crogiolo di trasformazione continua è un immenso che si modifica continuamente e questo gioco dell'immenso e di modificazione continua è esattamente ciò che chiama l'essere umano l'essere umano o muore o partecipa al gioco non è alternativa e se non partecipa al gioco comunque al gioco ci partecipa perché come diceva uno dei miei maestri male 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 che vada puoi sempre far da concime per nuovi semi per cui la tua vita non è stato uno spreco almeno non per tutto andiamo avanti con il nostro bosco in queste affermazioni parliamo degli stessi oggetti qualcuno potrebbe dire un bosco non è un insieme di dei e che cos'è un dio se non te stesso puoi pensare un dio se non proiettando te stesso in una dimensione infinita se io guardo se io guardo te di te vedo le tue azioni dalle azioni che tu metti in atto deduco la tua manifestazione lo so che tu appartieni alla mia stessa specie e pertanto con te posso comunicare nel modo proprio della mia specie posso relazionarmi attraverso la ragione ma nonostante questo è dalle tue azioni che deduco la tua intelligenza le tue emozioni il tuo sentire il tuo modo di porti all'interno della specie e allora mi sai spiegare attraverso quale passaggio di deduzione logica io che riconosco nelle tue azioni un certo grado di intelligenza non lo dovrei riconoscere agli esseri alberi agli esseri fili d'erba agli esseri funghi o all'essere ghiro eccetera eccetera si deduce l'intelligenza e la manifestazione di volontà dalle azioni che un soggetto mette in essere al di là dei tempi trasformazioni soggettive e dei modi peculiarità di specie che questi esseri mettono in atto dunque sono degli dei in quanto tendono all'infinito dei mutamenti e manifestano questa tendenza all'infinito attraverso le strategie che essi hanno adottato per la loro sopravvivenza e la loro trasformazione noi possiamo anche fare un'altra osservazione si è vero io ho una tendenza all'infinito però muoio sicuramente io morirò sicuramente ogni essere della natura muore però al di là delle persone che si pongono la morte ormai come un obiettivo quasi raggiunto cioè qualcosa di inevitabile che sta avanti agli occhi tipo persone molto anziane o tipo malati oppure altre persone cioè una persona normale non pensa mai alla morte cioè la morte non è il suo obiettivo il suo obiettivo è vivere ed è vivere senza la prospettiva di una morte per cui il problema il problema reale è che la morte cioè la fine dei mutamenti nella struttura fisica che noi abbiamo non rientra nelle nostre tensioni emotive perché le nostre tensioni emotive ci conducono ad espanderci all'infinito tant'è che Don Juan Castaneda gli dice gli esseri umani ma tutti gli esseri della natura non solo gli esseri umani hanno la sensazione di vivere all'infinito e si pensano immortali la sensazione di vivere all'infinito e di pensarsi immortali sono due cose assolutamente diverse perché la sensazione la tensione verso l'infinito appartiene ad ogni essere e appartiene la struttura emotiva profonda delle persone il pensarsi immortali è un'allucinazione e un'illusione della ragione perché la ragione che è nell'uomo e che vive di forma e di quantità muore col corpo fisico cioè la ragione non è altro che un sistema di ripiego che noi usiamo per affrontare la vita e muore col corpo fisico per cui noi abbiamo la tensione emotiva dell'infinito dentro di noi ma la ragione lo trasforma in sindrome di immortalità in sindrome di onnipotenza e questa trasformazione che fa la ragione delle nostre tensioni emotive anziché riconoscerle in quanto tali in realtà sono un ostacolo perché solo l'espressione e il dispiegamento del nostro potenziale emozionale è quello che può riconoscere l'infinito la ragione con la sua sindrome di onnipotenza con i suoi fantasmi con i suoi dogmi con la sua moralità con la gabbia che impone l'uomo di costringere le sue azioni all'interno della forma e della quantità dei numeri uccide quello che è la capacità dell'uomo di dispiegare le sue emozioni naturalmente la stragonaria poi riporta riprende questo motivo e mette in atto le strategie per disciplinare la ragione ma questo non esula da quello che è l'argomento di oggi dunque sono degli dei in quanto tendono all'infinito dei mutamenti e manifestano questa tendenza nell'infinito attraverso le strategie che si adottano per la loro sopravvivenza e la loro trasformazione gli stessi oggetti che formano un bosco possono essere un insieme di animali e vegetali un insieme di forme o un insieme di dei non cambia l'oggetto cui noi ci riferiamo cambia il nostro modo di porci davanti a quegli oggetti e gli atteggiamenti che noi assumiamo ti sembra che un bosco sia statico ti sembra che quegli dei che lo compongono siano in un limbo pensa a tutto quello che esiste come un immenso bosco questa è la visione degli dei nel paganesimo politeista tutta la vita è un immenso crogiolo di esseri che si trasformano continuamente che costruiscono le loro strategie che vincono e che soccombono che emergono che vengono generati che perdono la loro occasione oppure la guadagnano se vuoi la guerra di Troia descritta nell'Iliade di Omero altro non è che un'allegoria della vita una visione dell'esistenza propria del paganesimo politeista questa è la visione della vita nella religione pagana politeista dici per evitare confusioni con le concezioni monoteiste il paganesimo politeista non conosce un primo non c'è origine un motore immobile l'uno il trino una coscienza un universo non esiste una qualsiasi realtà manifestata o derivata da un'entità al di fuori di essa tutto agisce inconsapevolmente persino senza volontà esterne dentro l'indefinibile mare inconscio ed inconsapevole rispondo anziché pensare le cose come un prima e un dopo pensa le cose come un conseguenziale non è che prima c'è una cosa e poi c'è un'altra data un'oggettività che ha una qualità che è in possesso di caratteristiche ne consegue che dei soggetti manifestano se stessi diverso dal circostante ne consegue che tale manifestazione avviene mediante azioni ne consegue che tali azioni producono dei turbamenti nel mare da cui loro stessi sono emersi e tali turbamenti a loro volta favoriscono l'emergere di altri soggetti che riconoscono loro stessi diversi dal circostante dal quale sono emersi eccetera 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 ciò che muove il soggetto è io esisto e sento il bisogno di espandermi il bisogno di espandersi è il bisogno di eros primordiale l'intento di fanete la forza intrinseca al passaggio soggettivo dall'inconsapevole al consapevole che spinge il soggetto a manifestare la sua volontà la differenza col monoteismo sta nel fatto che il paganesimo che il paganesimo priva i soggetti della condizione morale di dipendenza dalle condizioni che li hanno generati in quanto in quelle condizioni non riconoscono una volontà finalizzata dalla loro generazione nemmeno il far l'amore dei genitori né una volontà che ne determina e diriga le proprie trasformazioni praticamente cosa dice il paganesimo il fatto che mio padre e mia madre abbiano scopato e da quella scopata sono nato io è assolutamente irrilevante il senso della scopata il senso del rapporto sessuale fatto da mio padre e da mia madre non è tanto quello che io nascessi ma è una risposta ai loro bisogni e ai loro tensioni emotive se non ci fosse stato padre Elio non ci sarebbe stato nemmeno mio padre e mia madre se non ci fosse stata madre eterna non ci sarebbe stato nemmeno mio padre e mia madre cioè il fatto che mio padre e mia madre abbiano costruito una situazione per cui io venissi in essere è assolutamente irrilevante cioè non costruisce un legame fra me mio padre e mia madre non esiste una condizione di legame morale o se vogliamo esiste la stessa condizione di legame morale che esiste fra me e il sole fra me e la terra perché come mio padre e mia madre facendo l'amore hanno costruito una condizione per cui io venissero in essere così le strategie dell'essere sole le strategie dell'essere terra le strategie dell'essere natura hanno costruito le condizioni per cui io venissi in essere per cui in realtà tutto il mondo ha concorso la trasformazione per cui io venissi in essere pertanto non esiste una condizione morale di dipendenza fra me mio padre e mia madre assolutamente ciò che invece fa il monoteismo cioè il monoteismo lega le persone per impedire alle persone di manifestare la loro libertà la caratteristica del monoteismo è quella di negare che le condizioni che dalle condizioni i soggetti si generano i soggetti si generano per una volontà programmatrice un'intelligenza che ne determina la loro esistenza e nel far questo li rende dipendenti da tale volontà da tale dipendenza dopodiché qualcuno decide che cosa vuole tale intelligenza e perché il paganesimo nega anche il venire in essere dei soggetti nega anche che il venire in essere dei soggetti avvenga per caso infatti il concetto di caso è un concetto opposto al concetto di volontà creatrice programmatrice per cui se come pagani neghiamo il concetto di volontà creatrice programmatrice neghiamo anche il concetto di caso tanto per essere chiari gli esseri vengono in essere per le condizioni che si sono manifestate vengono in essere come soluzioni delle contraddizioni che si manifestano nell'oggettività nella quale essi vengono in essere poi da questo concetto ne deriva tutto il concetto di azione del paganesimo che per ottenere qualche cosa è necessario costruire le condizioni affinché quel qualche cosa venga ottenuto cioè il qualche cosa che si vuole ottenere all'interno delle strategie del paganesimo deve germinare dalle condizioni che vengono costruite ma anche questo fa parte di un altro di altre lezioni altre manifestazioni se vuoi è eraclito gli esseri vengono in essere perché l'oggettività esprime le contraddizioni che si risolvono mediante amicizia o contesa furente se invece vuoi adottare le categorie orfiche puoi dire che gli esseri vengono in essere perché nell'oggettività si manifesta armonia e persuasione lo scopo è afrodite tanto per raggiungere lo scopo del monoteismo di far dipendere la vita da una volontà esterna è quello di renderla dipendente da se stesso piegarla alla propria morale soggiogarla schiavizzarla questa schiavizzazione si riproduce nel contesto sociale cito fra tutte le leggi non venne più favorevoli a principi che la cristiana perché questa sottomette loro non solamente i corpi e le facoltà dei sudditi dove conviene ma gli animi ancora e le coscienze e lega non solamente le mani ma gli affetti ancora e i pensieri scritto da Giovanni Bottero ed è riportato da Garlener sulla Repubblica del 6 luglio 2005 il paganesimo afferma che gli esseri vengono in essere come manifestazione della soluzione delle contraddizioni che si manifestano nell'oggettività e a loro volta il loro vivere crea contraddizioni nell'oggettività in cui agiscono e tale azione manifesta condizioni in cui altre condizioni giungendo a soluzione manifestano altri esseri che vengono in essere pertanto non esiste una forma soggettiva di dipendenza di un essere di un individuo nei confronti di un altro essere o individuo né questa può essere pretesa in base dei canoni morali edici o quant'altro spero di essere stato abbastanza chiaro e questa è la visione della vita del paganesimo politeista naturalmente cosa succede? succede che riuscire a vivere all'interno del paganesimo politeista è necessario un percorso educazionale da pagano politeista in pratica prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita è una delle cose più difficili che esista perché enunciarla così è facile bene grazie a tutti